Lei crede che la scienza abbia un ruolo nel superamento della mentalità utilitaristica degli ultimi tempi. Non è che invece l'ha creata separandosi dalla filosofia e quindi cercando di indagare quello che era utile con la rivoluzione scientifica? Buona domanda. Io recentemente anche mi sono occupato di un grande fisico matematico del Novecento, Paul Adrien Maurice Dirac. Dirac si era formato sulla filosofia di John Stuart Mill, poi è arrivato alla conclusione che la filosofia era troppo generica e la matematica era invece la cosa che faceva andare avanti. E seguì il gusto della ricerca matematica in quanto tale, cioè puro. Poi dopo però è venuta l'antimateria e l'applicazione dell'antimateria anche alla tecnologia medica. Quando Dirac è stato intervistato da Alberto Cavallari, giornalista del Corriere della Sera, Cavallari gli chiese ma cosa ne pensa della filosofia? Dirac ha risposto che a me non è più interessato, però adesso sull'onda della mia matematica è tornata a trovarmi. Quindi la buona matematica fa tornare la buona filosofia. Grazie mille per la sua disponibilità e auguriamo una buona giornata. Altrettanto voi ragazzi, andate avanti così.